Il 7 giugno lo Stadio San Paolo ospiterà quello che i moltissimi hanno definito il più grande e grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, il cantautore scomparso improvvisamente il 4 gennaio 2015. A ricordare l'artista saranno in tantissimi, tra questi ci sarà anche la seconda moglie Fabiola Sciabarrasi. La compagna di Pino però ha confessato al settimanale grazie a che covo dell'amarezza verso qualche amico del passato. L'ex modella, mamma di Sara, Sofia e Francesco, avuti con il cantante, ha ammesso di essere profondamente delusa che quelle persone che si professavano amici da una vita suoi edipino Daniele e che invece alla prima occasione le hanno voltato le spalle, come riporta il messaggero.